lei è meglio come sei da dove vieni tu? da Palermo di dove è da Palermo però di Maio non è palermicano di dove? di dove? eh delle mie pari di dove? di dove? Secondo me è Castellammare di Stabia, provincia di Di Maio. No, del Popolo, del Popolo. Sì? Sì. Di Maio. Allora, sono diversi di Maio. Di Maio, ci andiamo nelle Popolo, oggetto. Sì. Di qua ci andiamo. Ah, ok. È stato un piacere, ciao Di Maio. Ciao. 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 Come stai? 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 Io a 51 anni non ero qua. Sì? Sì. Io ne avevo dieci. C'era mio padre prima qua. Dopo mio padre è morto, stavamo in cielo. Che c'è? C'erano 62 anni a 51 anni.